Gli anziani non sanno come scendere in città per andare alle poste, a fare la spesa oppure altre commissioni, si sentono isolati. È la situazione che vivono i residenti di località accese, borgo montano del comune di Sant'Elia Fiume Rapido, raggiungibile attraverso una sola strada, sulla quale però insistono tre frane, che ne hanno limitato la circolazione. La prima nel 2019, l'ultima causata dall'alluvione dell'ottobre del 2020. Abbiamo una sola strada che si connette al prossimo villaggio e possiamo andare in città. Adesso ci sono state delle interruzioni dovute al maltempo, come puoi vedere il villaggio è quasi abbandonato, siamo 30 anni mai. Da quando ci sono state queste frane hanno fermato la circolare, per cui le persone anziane che devono andare giù in città dai dottori a fare spesa non possono muoversi assolutamente, è un disastro. Ci arrangiamo nei migliori poteri, ma adesso non è possibile andare avanti così. Le frane hanno portato disagi anche nella raccolta dei rifiuti. I residenti della località accese hanno anche fatto una raccolta firme per chiedere di risolvere questi problemi. In poche parole, stiamo inguaiati. In effetti si sono dimenticati di noi, basta un altro temporale brutto che si porta il resto della strada e poi noi dobbiamo aprire l'aeroporto qua sopra. Devono assolutamente fare qualcosa di positivo. Una vicenda ben conosciuta in comune. Sulla seconda frana i lavori partiranno la prossima settimana, mentre per la prima sono stati ottenuti dal Ministero 850 mila euro. Per quanto riguarda la seconda frana, settimana prossima iniziano i lavori. Per quanto riguarda la prima frana si faranno le gare per Valleluce Cese, ma anche per Portella e Olivella entro alla fine dell'anno. Quindi contiamo che all'inizio del 2022 ci saranno i lavori anche per la prima frana. Per la terza, quella più vicina alle abitazioni, la Regione Lazio, riconosciuto lo stato di calamità naturale del comune di Santeria, ha stanziato 1 milione e 600 mila euro per gli interventi sui danni causati proprio dall'alluvione e che gestirà direttamente la Regione Lazio attraverso l'Astral. Da ultimo, li asfalteremo a brevissimo, anche qui mi sento di dire la settimana prossima, il primo tratto della strada che da Valleluce conduce a Cese.